Quello di oggi è l'incontro più importante. Signor Gustavo, lei non sa da quanto la stavamo cercando. Sono dieci anni che io non me lo guardo qua. La sua testimonianza può cambiare la vita a 400.000 persone. In Italia una legge assurda stabilisce che un figlio non riconosciuto alla nascita non ha diritto a sapere il nome della madre. In bocca al lupo, eh? Te posso dar cambiare se vuoi. La sua è un'idea così saggia e puntuale che oppormi. Ma sta afficciando. Prechiato più un po' di clemenza, non ha intaccato nulla di edibile. Beva piano che questo è freddissimo. Sto scherzando. A me ne hai cambiata le cimane, frega un cazzo. Cambia poi mica tanto Ma riesci a vivere La vita com'è Che libertà. E' stato abbandonato come me. E adesso come sta? Se una persona non sa da dove viene, è una persona incompleta. I figli non so di chi li fa. I figli non so di chi li ama. Che non puoi tornare indietro Te ce l'hai una pischella? Avevo una fidanzata, poi insomma, le cose finiscono. Ma come si dice oggi? Sei binario, binario. No, non sono neanche binario. Ah sì, vai a vela al motore. Va bene. Le bosche di riviera. Ho capito.